Il modello Isofa è una ampia gamma di moduli che noi possiamo comporre a piacimento per adattarsi perfettamente al salotto di casa nostra. Quando parlo di moduli parlo di possibilità di dimensioni di seduta più o meno larghe a seconda delle nostre esigenze. Abbiamo per esempio un modello da 60, 70, 85 cm e ognuno di questi modelli possono essere messi insieme in modo tale da poter comporre degli angoli come questo che vedete qui esposto al senone del mobile e che stiano perfettamente inseriti all'interno del vostro living. Ognuno di questi moduli può essere personalizzato nel senso che potrete avere un modulo fisso, un modulo con un relax poggiapiedi e con dei meccanismi poggiatesta che possono essere o meccanici come in questo modello, regolabili in diverse posizioni, oppure elettrici. Questo modello si caratterizza anche per una caratteristica fondamentale che è la discrezione dei comandi. Voi vedrete che i comandi non sono visibili a occhio nudo, come vi vado a mostrare. Azionando due comodi pulsanti presenti all'interno del bracciolo, infatti, potrete azionare il meccanismo elettrico relax. Come vedete abbiamo un poggiapiedi che si alza, ma abbiamo anche un meccanismo di inclinazione della posizione di seduta per ottenere davvero il massimo del comfort. Cosa molto importante per ogni tipo di relax è che il fatto che questo meccanismo slitti in avanti non toglie che il salotto possa essere appoggiato al muro. Infatti, il relax, anche in posizione avanzata, non oltrepassa la linea di ingombro massimo del salotto, della parte posteriore del salotto. Questo è molto importante perché vi consente davvero di poterlo appoggiare eventualmente alle pareti di casa vostra senza nessun problema. Ma la vera novità tecnologica del divano iSofa è la possibilità, come dal nome stesso, di collegare tutte le sorgenti audio che voi avete in casa, a partire dal vostro iPhone che può essere inserito comodamente all'interno del dock certificato Apple oppure il vostro iPod. Ma se non avete un iPhone o un iPod non ci sono problemi perché la versatilità del dock Universal Music Surround che incorporiamo nel nostro iSofa vi permette di poter collegare qualsiasi dispositivo audio che voi abbiate in casa. Per esempio il dispositivo consente di collegare iPhone, iPod, davvero, ma la possibilità ancora di collegare una SD card, come in questo caso, su cui potrete caricare la vostra musica preferita. Oppure potrete collegare una card USB. Oppure attraverso un cavo che noi forniamo insieme al salotto abbiamo una presa ausiliaria e voi potete collegando questo cavo, dalla parte opposta del cavo voi collegate la vostra sorgente audio che può essere la televisione, la Playstation o qualsiasi altra cosa, d'accordo? E voi fate suonare la vostra musica direttamente dalle casse del vostro divano. Molto importante, l'angolo del divano iSofa è predisposto in modo da avere due altoparlanti sull'angolo e un subwoofer integrato all'interno dell'angolo stesso, d'accordo? Dicevo, se non avete un iPhone o un iPod non ci sono problemi per collegare il vostro iSofa perché c'è possibilità addirittura di una connessione Bluetooth, come in questo caso vi farò vedere utilizzando il mio BlackBerry. Per esempio qui io faccio partire una canzone che ho nella memoria del mio telefono e riesco addirittura a controllare il volume. Come vedete io posso comodamente con il mio telefono controllare il volume dell'impianto audio incorporato nel mio divano. Tutto questo è iSofa, quindi vi invitiamo a provare iSofa e tutti gli altri modelli della collezione 2012 allo stand Parma Divani al Salone Immobile di Parma 2012 o al nostro showroom a Sala Vaganza. Vi aspettiamo!